Dunque, miei piccoli amici, l'ultima volta avevamo iniziato a parlare dei celti. I celti erano un popolo di guerrieri di origine indo-europea che si era insediato in varie zone dell'Europa centrale. In Italia arrivarono attorno al 500 a.C. nella pianura padana, con la loro organizzazione in tribù. In cosa credevano, oltre al dio dalle corna di cervo? I celti erano politeisti ed ogni elemento della natura per loro era sacro. Ad esempio, davano un genere agli alberi. Il frassino era per loro una pianta maschile e con il suo legno i celti costruivano le armi, mentre la betulla era considerata una pianta femminile, per questo lo utilizzavano per costruire le culle dei neonati. Chi erano i più importanti tra i celti? Le figure più importanti della società celtica erano i sacerdoti, tanto che anche il re doveva rispettare il loro parere. I sacerdoti venivano chiamati druidi ed erano i custodi dei testi religiosi e del sapere, di simboli e tradizioni. Se osserviamo i vari reperti archeologici, in particolare le armi, notiamo che la produzione artistica celtica fu essenzialmente decorativa, ornamentale, legata alla produzione di gioielli, vasellame, armi e monete. Tipico era l'uso di forme geometriche e astratte. Nelle immagini gli oggetti non erano riprodotti fedelmente, ma rappresentati da simboli. I romani diedero ai celti il nome latino di Galli per designare gli abitanti della Gallia. I greci li chiamarono celti, nome probabilmente tramandato dagli etruschi e dai paleoveneti per chiamare le prime tribù celtiche da essi incontrate tra il IX e l'VIII secolo a.C. Una rappresentazione famosa dei celti, anche se storicamente poco attendibile, è quella delle avventure a fumetti dedicate ad Asterix il Gallico. I protagonisti sono i Galli, ma in diverse storie compaiono anche altri popoli celtici, dagli elvezzi ai belgi ai britanni. E poi dove sono finiti? A parte i fumetti, giochi di ruolo e i libri fantasy, dico? I celti non si imposero sulle tribù esistenti, ma si mescolarono ad esse. Quando arrivarono gli etruschi e i romani, l'Italia nord-occidentale era abitata da una complessa rete di popolazioni celto-liguri, con alcune differenze geografiche. Ah, i liguri! È vero! I liguri li conosceremo nella prossima lezione, insieme ai veneti. Alla prossima!